Sì, sono soddisfatta, Presidente, perché è la riprova che in questi anni c'è stata una sciatteria e forse, chissà, se nel futuro la storia ci dirà che c'erano magari altri accordi politici, per mio giudizio, intollerabili, ingiustificabili, perché bisognava fare attenzione quando si pagavano con le risorse pubbliche, le prestazioni assistenziali fuori regione, quando tutte quelle cifre potevano invece essere investite proprio all'interno del servizio sanitario regionale. E questa risposta conferma la responsabilità del centrodestra e del centrosinistra della politica regionale, che poi possiamo risalire gerarchicamente a tutti i governi e ai rappresentanti nazionali. Ma siccome io in quest'aula, Presidente, ho subito e ho dovuto sorbirmi più che altro le prediche di quei giganti della politica di cui dicevo sopra, perché mi sono dovuta sorbire le prediche in aula e fuori dall'aula di Enzina Bruno Bossio, che oggi è rinviata in giudizio per questioni di corruzione, dell'onorevole Santelli di Cannizzaro, che ha anche parlato prima, ma ho avuto l'attenzione anche dell'altra aula del Senato, del senatore il dottor Mangialavori, che lui proprio tra l'altro lavora nella sanità privata e medico, il senatore Siclari. Mi sono stata attenzionata da così molte osservazioni, da gente che ha fatto la storia della politica calabrese, che ancora oggi siede in questi banchi e che evidentemente è in grado, in parte, di incidere nel contesto storico politico nazionale e regionale. Mi è stato detto che il mio ruolo di relatrice, che ho difeso fino all'ultimo, era in conflitto di interessi con una nomina che era stata approntata dal generale Cotticelli. Si parlò di questo medico, è sindacalista, persona per bene, preparata, riconosciuta in tutta la Calabria, anche dagli stessi politici che hanno cercato di offendere sia me che lo stesso medico. Questo medico Scaffidi, che era stato scelto, nominato in prima battuta dal generale, proprio perché evidentemente gli aveva riconosciuto capacità e fiducia estiva, perché da sindacalista continua a fare delle battaglie, aveva questo difetto di essere onesto e soprattutto di avere un trascorso di battaglie, di legalità e di diritto alla salute, insieme al Movimento 5 Stelle, in particolare a me perché mi sono occupata in questi anni proprio di sanità calabrese. È stato detto che ero in conflitto di interesse e io in quest'Aula colgo l'occasione per dirlo, per ammetterlo, che io assolutamente ero e sono in conflitto, però con i loro interessi. Con gli interessi di questa gente, dall'Abbossio, alla Santelli, a Siglari, a Mangiallavoro, a tutti questa gente che ancora qualcuno evidentemente sostiene e legittima, perché i loro interessi sono scritti nero su bianco nella storia dei ruoli che hanno avuto in Calabria e anche a livello nazionale. Quindi io sono fiera di essere in conflitto, Presidente e rappresentante del Governo, con gli interessi di questi signori. Poi li vedremo nel tempo e anche nel passato se qualcuno ha voglio, perché toccare la Calabria non piace mai a nessuno, perché toccare la Calabria significa in qualche modo infangarsi o comunque avere a che fare con il fango. Ma io ho degli stivali, sono ben attrezzata nella mia regione e me ne frego delle cose che mi vengono dette per cercare di indebolirmi, per cercare di intimidirmi, a me non me ne frega nulla. E allora, siccome non c'è più tempo, rappresentante del Governo, sbrigatevi, perché sono passati sette mesi con la nuova struttura commissariale e non sono per niente soddisfatta dei percorsi che sono stati approntati. Perché io proseguo a lavorare e lo ribadisco chiaramente, io continuo ad aiutare questa struttura commissariale, a vigilare su questa struttura commissariale, e non perché c'è qualcuno che mi può stare o mi deve stare simpatico o antipatico, perché io sono un rappresentante della nazione, eletta, e il mio compito è fare questo, e lo faccio nelle sedi formali, nelle sedi pubbliche, dove e dopo per raccontare e spiegare. Allora, sbrigatevi, signori rappresentanti del Governo, perché io faccio la mia quota parte da parlamentare di maggioranza, che sono fiera di rappresentare e di sostenere il Governo Conte in questa alleanza complicata, ma che ha dato i suoi frutti con la Lega, perché la struttura commissariale, fino ad oggi, ha perseguito pedissequamente il programma del precedente Commissario Oscura, a valli di assunzioni poco chiare, perché c'è una confusione fra chi è ingraduatore, chi è vincitore di concorso, fra i precari. Siccome in questi mesi non è stata fatta alcuna verifica sul fabbisogno del personale, fatela presto, dovevate farla ieri. Allora non è stata fatta neanche un piano assunzionale del settore dell'emergenza urgenza in vista del periodo estivo. Io sono originale di Tropea, ma posso parlare per l'intera Calabria. La Calabria in estate triplica in popolazione e i servizi sono sempre più sofferenti. Non è stato fatto alcun piano di emergenza per sopperire in estate a questa carenza, a questi problemi che sono già scritti e che sono già cronaca futura che possiamo anticipare. Non è stato fatto alcun monitoraggio della realizzazione dei nuovi ospedali. Non è stata posta alcuna attenzione sulla riapertura dei presidi ospedaliari di Praia Mare e di Trebisaccio, cosa che invece è stata sollecitata da me e da altri parlamentari, a direttamente ai funzionari preposti, chiedendo anche spiegazione all'ASP di Cosenza, perché è da quattro anni che ci sono specifiche sentenze del Consiglio di Stato. Sono passati sette mesi, dei segnali di cambiamento dovevano essere dati. Invece ci siamo sorbiti scelle che abbiamo tollerato per fiducia, fino a poco tempo fa, almeno da parte mia, alla Ministra, e che poi ci ha rilasciato questi bei regali. Quindi si salvi chi può dove andrà questo signore. E poi permangono, lo dico al Governo tutto, a quest'Aula questioni di illiceità segnalate a più riprese da operatori di medici, ma anche da noi stessi con atti parlamentari e con segnalazioni dirette alla struttura commissariale, favoritismi e violazioni di legge che ancora permangono, perché sono una situazione cronica che permane in tutte le aziende calabrese. Andate a responsabilizzare subito i facenti funzioni, perché i facenti funzioni non stanno là parcheggiati che devono aspettare i nuovi. Intanto i facenti funzioni lavorassero, ma siano sollecitate la struttura commissariale, altrimenti nessuno farà nulla. E dopodiché sbrigatevi a nominare i nuovi. A me non interessa chi nominate. Sarò la prima ad essere felice se questi nuovi, quando li troverete, riusciranno ad approntare risultati. Sarò io per prima stessa ad aiutare queste persone che non vogliono nemmeno sapere chi sono. Li scoprirò e li leggerò dai giornali, perché ognuno si prende le responsabilità politiche che ha, soprattutto voi che avete ruoli governativi. Sbrigatevi, perché ci sono cinque aziende scoperte su otto, perché la nona è sciolta per mafia. Quindi c'è una struttura commissariale lì che va vigilata e sarà oggetto di altre mie interpellanze rivolte al Ministro dell'Interno, visto che bisogna capire che cosa sta succedendo lì. E vado a concludere dicendo che purtroppo non sono state mai approntate delle iniziative di conseguenza per quanto riguarda quella scabrosa e raccapricciante vicenda dei cartoni che sono stati utilizzati al posto degli specifici dispositivi al pronto soccorso dell'ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Pur inizialmente la Ministra era uscita su questo tema, ma poi si è fermato tutto. Nonostante le bufale di alcuni giornali sono state smentite, nonostante i Tribunali del Lavoro abbiano rimosso la sanzione che era stata inflitta al medico, pensate che era stato colpevole di aver contribuito a portare agli onori della cronaca questa raccapricciante vicenda. Che fino ha fatto quella storia? Abbiamo fatto? Luce? O tutto deve sempre passare in cavalleria, perché la Calabria è troppo complicata da gestire. E allora ancora non è stato fatto niente, qui sollecito il Governo e sollecito apertamente l'Ordine Nazionale dei Medici. Svegliatevi perché sulla morte del piccolo Flavio Scutellà che è stata una di quelle morti tragiche di minorenni, che non è stata la sola perché c'è stata anche Varuscio e la Monteleone, da dove poi nasce tutta la storia del piano di rientro e dello scoperchiamento di questa tragedia che è la sanità calabrese, non è stato fatto nulla riguardo al fatto che c'è il medico che ha ucciso il piccolo Scutellà perché c'è stata una sentenza passata in giudicato di condanna a 18 mesi di reclusione nei confronti di questo medico. Cosa aspettate a stanzionare questo medico? Sia il Governo per le iniziative di competenza, sia l'Ordine dei Medici. E allora chiudo, Presidente, perché vanno date delle spiegazioni pubbliche e formali su queste dimissioni, su queste dinamiche che sono successe e che spero che saranno anche attenzionate dalla Procura della Repubblica. Chiaramente la Ministra ha detto che la mia collaborazione non è più gradita come prima, ma a me non interessa perché io ho la mia dignità ed un percorso politico che è molto chiaro, che ha gli atti e che è intellegibile da chiunque abbia voglia di approfondire. Quindi continuo a sostenere questa maggioranza di Governo, continuo a tenere alta la bandiera del Movimento 5 Stelle in una terra di Calabria dove abbiamo avuto il coraggio di fare delle battaglie, quando tutti si imboscavano, tutti si imboscavano, tutti, e dico tutti, e allora non sarò più clemente, c'è soltanto questa differenza, che non sarò più clemente, che sarò implacabile, perché rappresento i cittadini calabresi, i loro drammi, sono la loro voce, come lo siete tutti, e io la voglio e devo interpretare così perché non mi resta che questo, e quindi non è più tempo di perdere l'occasione e l'opportunità che ci ha dato questo decreto. Adesso servono azioni ed azioni anche concrete e subito. Dovremmo ora passare all'interpellanza urgente numero 2451 dei deputati Quartapelle e Procopio ed altri, avverto che su richiesta dei presentatori e con il consenso del Governo lo svolgimento dell'interpellanza è rinviato ad altra seduta. Passiamo quindi all'interpellanza urgente numero 2457 dei deputati Deide e altri riguardante iniziative concernenti la delimitazione del vincolo.